Musica Cari telespettatori, rieccoci insieme dopo il periodo di repliche estive Torna in carne e ossa, vivo vivo e in diretta Il nostro Filippo Agostini, amministratore unico di Antenna e l'energia Esperto di energie, come molti di voi lo definiscono E quindi ci supporterà in questo viaggio Alla scoperta della bolletta e delle novità Delle tante cose che ci stanno dietro Un semplice dover avere una fornitura di un servizio Qua parliamo di energia in generale Gas, energia elettrica Oppure anche semplice pagare una bolletta Bene ritornato qui con noi Ben ritrovati a voi E Antenna e l'energia poi tra l'altro Ricordiamo non è soltanto fornitura di energia Per tutto un mondo Io direi anche una filosofia di vita Che è diventata per lei importante Perché partecipazione attiva Con sponsorizzazioni che non sono poca cosa Le attività sportive, attività di beneficenza Eventi Insomma una marea di cose Adesso, e quindi cominciamo un po' alla rovescia Anche un'attenzione all'ambiente Non tanto perché è di moda ma perché voi ci credete Io glielo ho spillato Perché ho detto ma per l'ambiente È restio raccontare le cose Tante cose positive che fanno Ma per l'ambiente voi fate qualche cosa Avete un'iniziativa pronta pronta Sì, siamo ancora agli inizi Perché è un argomento comunque che è diventato Importantissimo adesso Importante e anche con una grande attenzione adesso E quindi partiamo da piccole iniziative Che possono essere anche solo cercare di acquistare Dai nostri fornitori l'energia verde Quindi da eolico o da fotovoltaico Fino ad arrivare adesso a uno studio di gadget Noi siamo molto, essendo molto attivi con le sponsorizzazioni E presenti a molte manifestazioni I nostri clienti se ne saranno accorti Abbiamo anche una produzione Una distribuzione di molti gadget E quindi adesso va per la maggiore Il discorso del plastic free Quindi togliere le bottiglie di plastica E usciremo a breve con una distribuzione importante Parliamo di circa 30.000 pezzi Delle borracce in alluminio Quelle che c'erano una volta sostanzialmente Esatto, esatto, riutilizzabili Che quindi con poca spesa e un po' di impegno Uno può riutilizzare A dire la verità anche la temperatura dell'acqua Rimane più stabile poi E quindi usciremo con quelle Ed è un gadget adesso molto richiesto Sto solo decidendo se farle da mezzo litro O da 400 cc per il peso Perché poi uno comunque la deve tenere in mano Però è già in fase di produzione E' bello anche questo Poi siete continuamente, avete sempre idee Sì, beh, è obbligatorio Un'azienda deve essere comunque sempre innovativa Quindi deve essere innovativa nella comunicazione Deve essere innovativa E deve seguire anche le esigenze Anche ambientali a questo punto Sì, sicuramente Per quanto riguarda invece gli eventi sportivi Le prossime che si presentano, eccetera Su che cosa puntate l'attenzione? Beh, allora, prossimamente Diciamo che adesso arriva la fase Ai noi, invernale E quindi parliamo già di Natale Abbiamo comunque qualche evento a breve Sulla presentazione della nuova stagione sportiva Per esempio lunedì sera All'intorno alle 18.30 Al Palazzo del Bo Insieme al Centro Universitario Sportivo Il Cus Padova Ci sarà la presentazione della nuova stagione E quindi alla presenza anche dell'assessore E del presidente del Cus L'attività che voi seguite, ricordiamolo Sì, siamo main sponsor del Cus Padova E poi tutta una serie anche di società più piccole Ovviamente a Ponte San Nicolò Oppure in Toscana Oppure a Chioggia Ci sarà sempre la presentazione della nuova stagione sportiva Senza mai dimenticare Le società sportive dei diversamente abili Quindi ne abbiamo anche nel Veneziano Abbiamo anche quella Land Bike Insomma, è tutto un periodo adesso Di presentazione di nuova stagione sportiva E' come se cominciasse l'anno, no? E ovviamente dove noi presentiamo il nostro supporto Poi invece in fase natalizia Quest'anno abbiamo deciso di non partecipare a spettacoli classici O qualcosina Abbiamo qualcosa nella musica classica Però più eventi di beneficenza Uno di questi mi pare che si chiama Cantando Natale O Canta Natale Che sarà una manifestazione spontanea di cittadini Che si vestiranno dello stesso colore Per andare a cantare Ed è raccolta fondi Per i bambini dell'ospedale pediatrico Ricoverati dell'ospedale pediatrico Quindi ci sposteremo un po' l'attenzione su queste cose qua E a noi fa piacere Perché con queste iniziative Pensiamo che i nostri clienti Pur pagando la bolletta Almeno sanno che una parte Comunque serve poi C'è un ritorno C'è un ritorno, sì Quindi non è solo a parole E poi è di fatto Per quanto riguarda l'arte Voi tanto avete sostenuto Iniziative importanti Perché anche con una scuola di Padova Un liceo artistico Avete dato la possibilità Sì, quel rapporto sta andando avanti Quel contratto sta andando avanti È per un corso di scenografia Con il liceo selvatico E la cosa più Che ha galvanizzato i ragazzi Perché poi aveva fatto una trasmissione Come si dice in Veneto Non che pareva vero Che aveva un supporto da un'azienda Per una cosa del genere Però abbiamo scoperto Mecenate di una volta Sì, va bene Però abbiamo scoperto Delle realtà molto belle E una cosa che partirà a ottobre È la mostra al Fondazione Bano Al Palazzo Zabarella Su Monet Van Gogh E noi siamo tra i sostenitori Insieme a una banca E all'Intespar Aspetta, questa è una bella mostra Anche importante Come sostegno a questa mostra Che comunque è di prestigio Riusciremo a fare avere uno sconto Sul biglietto d'ingresso Ai nostri clienti Quel poco sconto che riusciremo ad avere Perché comunque già il biglietto Costa solo 13 euro Penso che si aggirerà Il prezzo speciale Intorno ai 10 euro È una mostra che vale la pena Con 10 euro Assolutamente sì Portando la bolletta No, metteremo da questo mese Un coupon insieme alla bolletta Per chi ha quella via posta ordinaria Dentro la busta Che basta presentarsi con quello Invece chi ha l'invio solo via mail O usa la app Glielo spediremo via mail Quindi attenzione alle bollette Che arrivano questo mese qui Di Antenna all'Energia Guardate perché c'è un regalo Insomma, comunque bisogna dire Sì, è un piccolo regalo Un piccolo contributo Una mostra prestigiosa Diciamo che qui Questa è un'operazione più di marketing Insomma, più che di sostegno Però insomma, vabbè Però insomma È di sostegno È di avvicinamento alla cultura Perché a volte la cultura costa In questo caso qua è molto più accessibile Poi avendo clienti anche in tutta Italia Ora dire che qualche cliente È anche da fuori provincia Come per tutti Insomma, siamo tutti come le scuole Per semplicizzare Un attimo solo che leggo un messaggio Mi hanno cambiato il contatore del gas Ora lo possono leggere da remoto Quindi per taroccarlo Non serve che mi facciano visita E adesso rispondiamo anche a questa Prima di una cosa Rispondiamo sicuramente a messaggio Un bilancio dell'attività che avete svolto L'avete fatto? O aspettate la fine dell'anno? No, no Noi facciamo il bilancio bimestrale Rosanna e la collega Alessandra Preparano Che era la riva Sì, sì Come è andata? Ma non possiamo lamentarci assolutamente Anzi Devo dire che il mercato ha reagito bene Ha risposto Perché noi promettiamo convenienza Promettiamo di sostenere il territorio Ma poi lo facciamo realmente Quindi il mix di pubblicità Sostegno Sponsorizzazioni E anche il comportamento stesso dell'azienda Grazie ai nostri collaboratori Serio Porta risultato Non Voi avete collaboratori non invadenti Quindi la differenza è radicale No, assolutamente No, assolutamente Anzi, tutt'altro E devo dire che il periodo estivo Luglio-agosto Che noi di solito era il periodo In cui si placava un po' l'operatività Abbiamo avuto un buon risultato Avevamo molte persone Che venivano a chiedere informazioni Forse ci hanno ascoltato Hanno ascoltato le trasmissioni Sono venuti a prendere informazioni E una buona parte È diventata anche cliente Ah, beh, questa è gratificante È importante Quindi poche vacanze noi Sempre a lavorare Prima o poi dovrete Ma va bene così Dai, finché Questo è un momento Poi sono sempre Finché non c'è un grande Il cambiamento Che adesso ricorderemo Perché poi molti Sono andati in confusione Che hanno scritto Perché pensavano Ci sono state delle notizie Foriere Insomma Di dubbi Perplessità Non era luglio di quest'anno Il prossimo anno Il prossimo anno Certo Ecco, vabbè Ci sono state Anche associazioni di consumatori Che hanno sbagliato in pieno Ma c'è stata confusione Per rispondere al messaggio Che è arrivato Tanti hanno avuto Questo cambio di contatore Sì, beh Diciamo che È in corso Il rinnovamento Di tutta la rete distributiva Che è una parte Che noi paghiamo in bolletta Quindi In realtà Dicono che Il cambio contatore È gratuito Parlava del gas Il telespietatore Il telespietatrice In realtà Lo stiamo pagando In bolletta Niente gratis È in fase Di modernizzazione Diciamo che passiamo Dal contatore Analogico A quello digitale Vantaggi Svantaggi Possibilità Allora Il vantaggio È sicuramente Che noi Società di vendita Riceveremo più spesso Le letture reali Del gas Perché fino adesso Invece doveva venire Lomino Classico Col cartellino Che suonava il campanello Veniva a leggere Il contatore Con i numeri che giravano Oppure deve essere Il privato Che vi fa la lettura Oppure il privato Può continuare a fare L'autolettura Leggendolo E Capisco il dubbio Che essendo un contatore Elettronico Si può taroccare Ma quali contatori Stanno installando Ancora quelli a rotella O digitali ad impulsi Esatto Quelli digitali ad impulsi Parliamo di gas metano Quindi dovrebbero essere Più precisi E più corretti È chiaro che capisco Il dubbio Del telespettatore O telespettatrice Perché Come tutte le cose elettroniche Potrebbe avere qualche malfunzionamento Però Una tecnica Che invito sempre Ad utilizzare Ad alcuni clienti Che chiamano Che dicono Che hanno consumato Troppo Che è impossibile Che è impossibile È dire Spegniamo la caldaia Teniamo chiusi i fornelli Spegniamo tutto ciò Che va a gas Leggiamo il contatore Aspettiamo una mezz'ora Quindi non c'è consumo Torniamo a leggere Il contatore dopo mezz'ora Un'ora Il tempo insomma Che uno ha voglia Se il contatore è fermo Vuol dire che è tutto a posto Se invece Il contatore è salito di consumo O c'è una perdita O il contatore è difettoso Ma questo valeva anche Per quelli precedenti a rotella Non è che vale Solo per quelli nuovi Vale sempre E lo stesso per l'energia elettrica Cioè Se uno spegne Tutta l'energia elettrica Della casa E poi vede che comunque Va avanti Sì Anche l'energia elettrica È la stessa cosa L'energia elettrica È un po' più complessa Perché sono tre fasce Però come dire Si può Schiacciando il bottone Il contatore Quello classico Bianco Di distribuzione Le tre fasce Si chiamano A1 A2 A3 Se le segna su un foglio Una persona Se le segna su un foglio Tiene tutto spento Dopo un'ora Mezz'ora Basta anche un quarto d'ora Con l'energia elettrica Perché comunque La lettura è immediata Se rimane ferma Tutto a posto Altrimenti Ci può essere una dispersione Perché non sempre È il contatore Che non funziona In realtà Li stanno rinnovando Tutti i contatori Sia per una questione Di sicurezza Sia perché hanno migliorato Le prestazioni Perché da gennaio Di quest'anno E ha creato qualche problema Ai primi sei mesi Per le letture È stato cambiato Il sistema di misurazione Ed è Adesso è in tempo reale Cioè Noi riceviamo Le letture dei clienti Minuto per minuto Cioè quando ci arriva Il consumo del cliente Di un mese È un numero infinito Di dati Che creano L'aggregato Quindi il sistema Si sta rinnovando Per migliorare Cioè sarà Qualche piccolo incidente Di percorso Sicuramente Qualche contatore Difettoso È sempre successo Comunque Basta installare Un contatore In sequenza Quello del gestore Per verificare I consumi Ecco questo È il metodo migliore Per controllare Chi controlla Cioè Cioè Le persone un po' più attente O quelle Un po' più precise C'è il contatore Ufficiale D'accordo Quindi arriva La condotta Nazionale C'è il contatore Ufficiale Che è inviolabile Ovviamente Perché Oltretutto È un reato Penale Ricordiamolo E ci sono alcuni I più maniaci Come dire Senza offesa Ovviamente Che mettono Un contatore successivo Sarebbe un po' come dire Che andiamo a fare benzina E dice Ho versato 10 litri Ma ce lo dice il gestore Allora Vediamo se la macchina Ha 10 litri E dentro E quindi mettono Un contatore successivo Che non ha nessun valore legale Che controlla Se entra 10 Se abbiamo consumato 10 Perché qua Se entra 10 E a noi risulta 8 Vuol dire che c'è Una discrepanza Ricordiamoci sempre però Che quando noi consumiamo 10 metri cubi Poi in fatturazione Vado un po' a memoria Ne vengono Fatturati Circa 12 11 E 3 11 e mezzo A seconda della zona Perché C'è una regola nazionale Che tiene Tiene conto Anche delle perdite Legate al fatto Di aver fatto arrivare 10 metri cubi Presso la nostra Abitazione Cioè Vediamo se riesco a spiegarmi Se io ho consumato 10 metri cubi Per farne arrivare a me 10 metri cubi Nel tragitto Da Non so Da chissà dove A casa mia C'è stata una dispersione Dovuta alla pressione Che bisogna dare al gas Dovuta alle tubazioni E quindi noi paghiamo E' come se noi Consumiamo 10 Ma paghiamo anche I due metri cubi Che si sono dispersi Nell'aria Quindi nulla è gratis Infatti assolutamente Non lo mettevamo in discussione Chiarissimo Per quanto riguarda Voi in tempo reale Riuscite a leggere Dopo andiamo Nella lettura Della bolletta Non specifico Però A leggere anche Le piccole variazioni Questo per i nuovi contatori Perché Quando voi ricevete Chiamateci L'abbiamo letto più volte Chiamateci Per fare la lettura Del contatore In modo che c'è Un aggiornamento Per i vecchi contatori Allora Per i vecchi contatori Chiamate Sì Per l'autolettura gas Allora Col vecchio contatore A numeretti È meglio Sempre ogni mese Chiamare E dare la lettura In modo che Perché noi abbiamo Comunque uno storico Un profilo Dei consumi Del cliente Però Ci sono delle variazioni Da un anno all'altro Magari Una persona è stata Due mesi all'estero Oppure Non ha usato E se non lo fa Paga di più No No Noi abbiamo Una curva Si chiama di prelievo Una curva di consumo E se non abbiamo La lettura reale Il sistema ci dice Nel mese di maggio L'anno scorso La signora Elena Ha consumato 20 metri cubi E noi fatturiamo 20 metri cubi I famosi stimati Qual è il problema? Che se poi invece Era zero Oppure era 200 Quando ci arriva La lettura Facciamo il famoso Conguaglio Che sono quelle Bollette Un po' più consistenti Che fanno Perdere la pazienza No? Quindi Se noi abbiamo Abbiamo messo Fatturato 20 Ma uno ha consumato Zero Ha pagato di più Di quello che ha consumato O meglio Paga in anticipo Una cosa che consumerà Se invece ha consumato 200 Ha pagato molto meno Di quello che avrebbe Dovuto pagare Il problema Che poi si accumula Se passano due Tre mesi Si accumula E non è così Anormale Che certe volte Escano bollette Per una famiglia Di 400 500 euro Di gas E dopo Diventa un problema Va gestita Con la rateizzazione Oppure Bisogna sacrificarsi Un attimino Nel pagamento Quindi è meglio Essere un po' più puntuali Poi noi diamo Tutti gli strumenti Per poter Dare l'autolettura In maniera veloce Si va dall'app Si va al fatto Che puoi telefonare Mentre sei in macchina In colonna In tangenziale Come stamattina E dare il numero Il contatore O addirittura Si usa Whatsapp Fai la foto Il contatore La spedisci Al nostro numero Dedicato E dall'altra parte L'Alessia Che segue il Whatsapp Registra la lettura Del cliente Insomma È un piccolo sacrificio Che va fatto Mensilmente O ogni due mesi Se uno è bimestrale Ha la bolletta bimestrale Se hanno altri mesi Se uno lo fa Uno 4-6 mesi Si becca Dopo C'è quel rischio Che può essere remoto Può essere reale Ok Però se qualcuno Invece vuole In qualche modo Suddividere la spesa Perché l'energia elettrica È abbastanza piatta Nei consumi In parte qualche picco estivo Per il condizionatore Si prende il consumo Di un anno Lo suddivide per 12 mesi E si fa la fatturazione costante Durante i 12 mesi E dopo un anno Si inserisce la lettura E si allinea la situazione Quindi Invece di spendere 400 euro a dicembre E 20 euro ad agosto Facciamo la somma di tutto Dividiamo Uno spende Non so 90 euro al mese E Perché comunque Gli stipendi Sono sempre uguali E perché Se no si hanno dei picchi Di spesa Quindi è su scelta Della persona Noi lo chiamiamo Consumo costante Che Giovanni riesce a gestire In maniera molto Ognuno è deputato Certo perché poi Giovanni Una volta all'anno Deve chiamare il cliente E dirgli Senti fammi una lettura Che vediamo Se quello che ti abbiamo Fatturato fino adesso Di presunto È corretto Assolutamente sì Questo è importante E però Così uno Ha un budget Di spesa mensile È molto più lineare La spesa Perfetto Un altro messaggio Poi abbiamo la pubblicità Che incombe Ma se nel conguaglio Devo pagare 400 euro In più Chiedono subito euro Ma se me li devono loro I soldi Non me li danno Giusto Vanno a scalare Sulle bollette successive Io ho pagato 1100 euro Per due mesi Di riscaldamento Per una casa Di 100 metri quadri È possibile Ok Allora andiamo con ordine Vediamo che memorizzo Tenta Fermare Ritorniamo sul messaggio Che così sta guardando I valutini Sono più domande Allora Vediamo un po' Allora Se nel conguaglio Devo pagare 400 euro In più Chiedono subito gli euro Allora è logicamente La bolletta Una scadenza predefinita Che normalmente È 20 giorni Data fattura Data bolletta Però Non è vero Che li devi pagare subito Se prima della scadenza Ci si fa sentire Con la società di vendita È normato E quindi c'è una legge Ben precisa In cui uno può chiedere La rateizzazione Pare al numero di mesi Di conguaglio Della bolletta Per intenderci Il conguaglio Vuol dire che è andato A ricalcolare Un periodo Può essere tre mesi Ok Se sono tre mesi Che è un esempio 400 euro diviso tre Che non è divisibile per tre Però si arrotonda Una persona ha diritto Se la richiede Prima della scadenza Della bolletta A una rateizzazione Almeno di tre rate Se il conguaglio Fosse di sei mesi Sei rate Questo molti non lo sanno E il discorso Invece succede anche Che è stato fatturato Più gas E pagato E poi c'è il conguaglio Negativo Cioè il cliente Accredito Ha anticipato una spesa Allora Anche questa C'è una norma Ben precisa Va fatta una richiesta scritta Antenor è un po' più elastica Basta una telefonata E viene richiesto Liban di riferimento E viene fatto il bonifico Restituzione Oppure viene scomputata La norma dice Che la società di vendita Ha 60 giorni di tempo Per Dalla richiesta Per restituire È educazione Restituirli quanto prima Però non viene scomputata Nelle bollette successive Oppure Se uno preferisce Può Lasciare lì il credito E con i consumi successivi Viene pian pianino Viene mangiato Questo credito Lì sta scelta Un po' il cliente Non aspettatevi Che una società di vendita Che esce a credito Vi telefoni Per restituirvi il denaro Perché è tutto un automatismo Cioè Quando anche Enel Eni O anche noi Hai un numero di clienti Enorme Esci con le bollette Non è che poi Ti metti a vedere La signora Elena Se avanza denaro Cioè È una cosa fatta In maniera massiva Sta a noi Interessarci Delle nostre cose Se vediamo Che abbiamo un credito Anche solo di 50 100 euro E fa comodo Una telefonata Se bisogna sprecarla E questi Vengono restituiti Altrimenti Comunque Ci sono società Che spediscono A casa L'assegno circolare Noi utilizziamo Il bonifico Il vaglia postale Che è molto Immediato Su richiesta L'ultimo pezzo Vediamo un secondo Se mi rimettono In onda il messaggio Che dopo andiamo In pubblicità Giuro giuro Vediamo un attimo Se ce lo fanno vedere Che era di 1100 Non mi ricordo più Io ho pagato 1100 euro Per due mesi Di riscaldamento Per una casa Di 100 metri quadri È possibile? Sì È possibile Bisognerebbe vedere I mesi precedenti Quanto aveva pagato Per esempio L'inverno scorso È cominciato Subito ad ottobre E non so se vi ricordate È finito a maggio Con uno sprint Di freddo Incredibile E quindi I sistemi Delle società di vendita Avevano Avevano magari Fatturato Dei consumi presunti Sempre di gas metano Sto parlando ovviamente Più bassi Di quello che poi È stata la termicità Dell'inverno E quindi Abbiamo consumato Tantissimo a maggio Ma i nostri sistemi Non prevedono Consumi a maggio Di gas metano E quindi Molti si sono trovati In una situazione del genere Ecco perché È meglio fare L'autolettura Perché con l'autolettura Noi riusciamo a capire Da un mese all'altro Quanto abbiamo consumato E se volete un dato Per farvi un calcolo A casa Di quanto Viene fuori una bolletta Calcolate Il consumo Lo moltiplicate Per 80 centesimi Che ricomprende Imposte Iva Accise Tutto Quindi è 100 metri cubi La bolletta È di circa 81 euro Una cosa molto semplice Chiarissimo Perfetto Pubblicità Poi torniamo Grazie a tutti